Perché? Cosa succede? Calmati Luca! Non sento più Espi! Non riesco a saltare! Riesco a dare solo dritto! Non farti prendere dal panico! Tranquillo! È normale! Espi aiuto! Cioè non è... Aiuto? Non è troppo... Non è troppo normale Luca! Abbiamo degli stivaletti maledetti! Abbiamo delle scarpe che ci costringono a non saltare! Ma pesano un sacco queste scarpe! E io me le tolgo! Togli l'Espi! Non ci si può togliere queste scarpe! Lo vedi? L'unica maniera... Hanno la maledizione! L'unica maniera è trovare tutti gli ingredienti segreti per craftare un antidoto per questa maledizione! Ah! C'è una maniera allora! Oh! Porca miseria! Luca dovevi lasciarti cadere qui sopra! Ma porca miseria! Ah! Qui si può salire! Assolutamente! Vedi? Così abbiamo a nostra disposizione queste Nether Star! Combattiamo la magia degli stivali con altra magia! Ma è una tortura questo posto! Doverlo fare tutto senza saltare! Assolutamente! A quanto pare non è l'unica sfida! Eh! Dai! Non ti preoccupare! Non è così difficile! Ah! Vedi? Un po' di pratica! E si riesce a giocare a Minecraft anche senza saltare! Oh! E questa che cos'è? Non è proprio il ma... Oh! 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 Un massaggio! Aspetta dove bisogna andare? Qua sopra! Oh! Qua! Fino qui in alto! Oh! Dannazione sono un po' confuso! Magari si può! Dannazioni! Non lo so! Aspetta però! Uh! Ho un'idea! E se semplicemente facessimo! Ah! Se semplicemente facessimo così! Ma dai! Era troppo semplice! Cosa? Cosa ti avrebbe successo? Dove sei andato? Oh! Ci ho teletrasportato! Sono andato sul beacon! Ah! Uh! Sul coso lì! Quindi abbiamo... Ah! Perfetto! Abbiamo completato la prima! Questo questo vedi? Quello lì so... Non possiamo andare di qua! D'accordo! Andiamo avanti! Mi sa che ci sono altre cose da raccogliere! Andiamo ad andare per forza di qui! Bottone cosa fa? Niente! Oh! Oh! Dannazione! Non ci credo! Cos'è questa pressure plate? Oh! Che bisogna diventare! Luca! Eh? Luca! C'è una pressure plate di ferro! Vai lì! Ti teletrasporti in alto! Ah! Vedi? Ah! Guarda! C'è una cesta! C'è una cesta! Dai un'occhiata subito! Uh! Non c'è niente qua sopra! C'è un blocco di ghiaccio che può essere pietato sulla soul sand! E un'ascia che può spiaccare! A me serve il blocco di ghiaccio! Davvero? Arrivo subito allora! Dove devo mettere sto blocco? Qua! Qui? Sicuro? Eh sì! Ok! Però dopo? Aspetta! Forse bisogna prendere un po' di ricorsa! Uh! Sì! Oh! Mi sa che io! È grazie al ghiaccio! Quante ne abbiamo? Dieci? Dieci! Forse bastano? Eh sì! Cinque prima, cinque adesso! Dov'è la fine? E allora andiamo alla fine! Eccola lì in fondo! E boom! Oh! E adesso guarda! Quanto siamo bravi! Siamo troppo pro a non saltare! Espi! Dovremmo farlo più spesso! Esattamente! Aspetta! Aspetta! Metto io! Vi si dice! Oh! Che delusione! Vabbè dai! Basta lanciare! Bravo! Lancia una nether star e siamo a posto! Qui abbiamo... Guarda che cactus strano! Mi ha dato un'ascia quella roba lì eh! Cosa? Davvero? Aspetta! Anche io ho un'ascia! Ma non lo so se ci servirà! Vabbè non importa! Allora qui è per consegnare... Ah! Qua è la fine! Si possono spaccare queste cose! Oh! Oh! Cosa? È un cocco! Ma... Ma... Ma c'è dato una nether star sto cocco! Davvero? Ma com'è possibile? L'hai aperto! Vabbè non importa Luca! È una cosa molto strana! Oh! Di qua c'è un percorso! D'accordo! Vai! Ah! Ok! Ci sono! Boom! Un'altra ancora! Luca! Ma guarda c'è un passaggio segreto qui nel lago! Ma sotto! Vai! Andiamo! Non saliamo più sopra! Davvero? Ma no ma possiamo salire Luca! Non possiamo... Ah! Guarda che roba! Stiamo nuotando! Ma si è aperto una cosa stranissima qui sotto! Un... Un... Un tempio segreto nascosto! Hai visto? Una piramide sotterranea! Oh! E vabbè ma se avete di fare queste cose Luca magari? Vabbè arrivo anch'io! Cerco di evitare però! Ok! Oh! Oh! Questa può rompere la prismarine! Questa è una scala! Mentre questa... Cosa? C'è solo una pozione per tornare indietro! Ma come? Vabbè io premo questa cosa magari è buona! Ma no! È lì è lì è lì è lì! È nella cesta! Ah! Ok d'accordo! Non ti sei stigare bene scusami! Eh vabbè! Tac! Oh! Qui 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 qui! Ecco qua! Devo spaccarla e boom! È bellissimo sto tempio! C'è un passaggio! C'è un passaggio segreto! Oh! Come c'è un passaggio segreto! Eh ancora! Vabbè ma è scurissimo! Oh! Questo mini puzzle! D'accordo risolviamolo! Ah collaboriamo! Allora di spingere il pistone con l'altro! Spingi il pistone! Ah sì! Eh aspetta! Deve aspettare che si chiude! E' così! Così! Poi lo prendi con questo! E' così! Perfetto! Oh! Un'altra nether star! Ecco dove erano finite tutte! Ce ne manca soltanto una! E so già dove andarla a trovare! Esatto! 1! Ma no! Ma uno spazio soltanto! Come facciamo? Vabbè basta! Ci basta! Hai ragione! Possiamo nuotare! Perfetto! Ma non è una bolla d'aria c'è? Ce l'ha data! Ce l'ha data così! Non facciamo domande! Troppo bello luotare quando non puoi saltare! Chi sono! E ora! Consegniamo le nostre nether star! Oh! E dopo il deserto! Un po' di frescolino! Purtroppo! Vai vedere cosa c'è scritto! Un po' di freddo! C'è ancora... C'è una pressure! C'è una pressure! Te la prendiamo! Che dici? Questa sì direi! Ha dato qualcosa? A neve? Ha dato della neve ti ha dato! Cosa puoi fare della neve? Ah! Puoi essere piazzata qui! Oh! Ma è perfetto! È per salire! Vai vai vai! Un altro po'! Perfetto così! Sali sali sali! Sali sali sali! Boom! Ma... Luca sono un po' confuso! Non riesco ad andare avanti! Non riesco a... Aspetta! Non riesco ad andare avanti! Guarda! Devi andare su qua! E butta indietro! È assurdo! Come funziona sta cosa? Mi sa che dobbiamo sbloccare qualcos'altro per riuscire a farcela! Guarda qua cosa ha sponato! Davvero! Uno zombie affogato! Cosa... Cosa ce le facciamo di sta roba? Uh! Ah! Ho capito! No ho capito Luca! Sono troppo avanti! Questa cosa ci danneggia e ci permette di saltare lì sopra forse! Oh! Secondo me sì! Adesso c'è lato della sabbia! Che può essere piazzata? Io ho la sabbia! Sulla argilla! Sulla argilla! Però... Vedo argilla! Con lo slime si può saltare un pochino! Davvero? Oh sì! Oh! Ma si può saltare un sacco! Aspetta! Ma no! Quindi con lo slime è l'unica cosa che ci permette di saltare! Che spettacolo! Prendo questa! Espi guarda! Vai! Perfetto! Io invece prendo questa! Boom! E adesso se ce la faccio... Manca comunque quello qua sotto! Ah! Ci stavo quasi riuscendo ma non riesco ad andare più oltre di così! Non ce la faccio! Non capisco Luca! Sono molto confuso! Aspetta! La zucca può essere messa sulla diorite! Quindi qui! È quella lì! Oh! No! Guarda! Ok! Si però! Il signor Snowell per favore vada sulla pressione! Spingilo! Perfetto! Aspetta Luca! Ma se semplicemente non usassi un oggetto? A mo' di bowling? Tipo... Così! Oh! Boom! Sei un genio! Sei un genio! Ufficialmente vai pure a te a consegnare! Te lo sei meritato! D'accordo! Grazie mille per l'onore! Oh no! Ecco! Lo sapevo! C'è sempre una sfida con il nether! Guarda che incubo! Andiamo! No! Aspetta Luca! Vai intanto avanti! Non è che... Bisogna per forza entrare a portare! Oh no! Oh! Che bello però! E qua non saltare è un bel problema! C'è pure una... Di giù verso la lava non torni più su! Esatto! Ma c'è pure una colonna di cioccolata lì! L'unica cosa che mi consola! Vai! Complimenti Luca! Da che parte ci sono fatti? Oh no! Ma quando schiatti tu riporti indietro anche me! Ma che incubo! Eh vabbè! Sembra giusto! Aspetta ci provo io Luca! BOOM! È così facile! Dai! Ci puoi fare lui! Eh vabbè! Ma allora! Spegniti! Ah! Finalmente! E' prima stella! Ce l'abbiamo fatta! C'è una carota! Ok! Va bene Luca non gasarti troppo per una carota! Le possiamo prendere altre? No! Soltanto una era una carota! Carota! Allora! C'è un pulsante! Che cosa che c'è da? D'altre carote! Questo è da carote infinite! Guarda che spettacolo! Tu che ti sei gasato per una stupidissima carota! Espy? O no! O no! O no! Perché sono... Luca sono bloccato da mezzo a mano! Espy? Ah no! Aspetta ce lo sto facendo! Non sei l'unico! Espy? Una mano! Espy? Come una mano! Cosa ne so io! Io sono bloccato qui! Non riesco ad andare avanti! Non so come mai! Io sto volando! Come stai volando! Ah beh sì! In effetti un po' stai volando! Va beh Luca! C'è un coriglio! 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 Luca! Non farli cucinare sul magma! Mi raccomando! E portali! Sulla pressure plate! Ah ma no! Ma si è buttato da sta parte! Ma è stupido! Oh! Perfetto! Abbiamo preso la pressure plate! E ora! Dobbiamo capire come andare avanti! Vedi Luca è difficilissimo! Oh! Oh! Luca c'è un passaggio! Sì? C'è un passaggio! E beh secondo te sto volando! Secondo te? Sì! Però non riesco! Sono riuscito invece a prendere la pressure plate! Perfetto! Così! C'è il barbatrucco! Corri! Come corri? Cos'hai fatto? Oh! È una cosa che ti fa cadere piano! Eh si vai! Dobbiamo andare fino a... Complimenti Luca! Ah beh l'importante è che siamo qui! Dai! Buttati! Di qua! E... Assumi! Ma dura pochissimo sta roba! Vai! No! Spattuto! Va bene! Bene lo stesso! Oh! Oh! Penso che sia! Fortezza! È presente quella dove c'è? C'è il portale per andare al land! Dobbiamo fare attenzione però! Questo fa abbastanza paura eh! Uh! Una freccia! Mmm! È molto sospettosa come cosa! Aspetta! Qua ti dice dammi questo e io ti do quello! Ah! Dobbiamo scambiare... Dobbiamo scambiare le stelle del nether per gli occhi! Uh! Ottimo! Mi pare un'ottima ottima idea però! Guarda! Che cosa? Ho trovato un occhio! Lo prendiamo! Non è cattivo una trappola! Va bene! Lo prendiamo direi! Forse dobbiamo attivare il portale! E qui c'era un altro! Ah! Dobbiamo raccogliere gli occhi allora! È strano! Ah! Forse la freccia dice! Voleva dire al posto che prendere le stelle del nether bisogna prendere gli occhi! Ah! Può essere! Però quello com'è che lo raggiungo? Forse così! Sì! Esattamente! Tre occhi ho preso Luca! Oh! Ma scusa! Non hai raccolto l'occhio che era qui dentro! Scusami Luca! No! Stavo guardando le torce che volavano sai! Ah! Va bene! Qui c'è un blocco invisibile lì! Poi un altro lì! Dai! Non è così difficile da capire! Vai! Che hai fatto? Io questo l'ho caduto! Provai ad arrivare a quello più lunghi là! Ok! Allora! Sprint! Ok! Ok! Vai! Ok! E ora! Mi devo lasciar cadere! Boom! Oh sì! Oh! 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 Che cosa hai fatto? Ho messo tutte le mie stelle e mi ha dato un occhio! Perfetto! Ne abbiamo messe troppe poche! Dannazione però! Oh! Questa l'abbiamo trovata! Ah! Ma eccolo qui! È quella! Vai! L'ultimo occhietto! E adesso! Completiamo il portale! Boom! Verso land! Ehi! Finiamo Minecraft senza saltare Espy! Praticamente sì! Fia! Cos'è sta Roma? Ma sbaglio è la barra di un boss quella però! È un altro posto con un drago un po' strano però! È un po' finto quel drago però! O no? A quanto pare dobbiamo trovare... Molto confuso questo posto! Ci sono delle mucche dei polli! Ma avevi visto? Del land con degli animali! Eh no! Ah! C'è un ordine in cui fare le cose Espy! Guarda! Uno! Due! Ah! Io sono salito sull'uno! Quanto sei letto! Oh! Aspetta! Hai beccato una pressure plate Luca? Sì! Perfetto! Oh! L'ho fatto! Non so nemmeno come! Ho tolto un altro pezzo di vita! Ho sceso di un altro! Perfetto! Adesso manca il numero 3! Il numero 3! 3! Gah! Ok ci sono! Ci sono! Pressure plate presa! 3 su! Adesso dobbiamo fare questo! 6 però! Ecco qui la torta! Ma cosa stai facendo la torta Luca? Sbrigati! Dobbiamo andare ad attaccare l'Ender Dragon! Mezzo falso quello che è! E se non saltavi lì dovevi fare la torta qua con gli animali! Ah! Capisco! Dai! Comunque sbrigati che non c'è tempo da perdere Luca! Dai! Andiamo! Andiamo! Vediamo! Siamo sulle... E vabbè! Ok! Mi sa che l'abbiamo sconfitto! Ce la siamo qua! E si è aperto pure il portale! Ho completato Minecraft! Mi sa! Andiamo! C'è più o meno! Perché c'è un uovo in testa? Non lo so! Anche ho un uovo in testa! Ma... Ma come può... Vabbè non importa Luca! Vabbè! Andiamo! Andiamo! E andiamo! Oh! Guarda un po'! Mi sa che non proviamo finito Minecraft! E vabbè! Senza saltare eh! Che spettacolo! Vabbè! Non è... Non è proprio Minecraft completo! Ma... Diciamo che avevo messo la prova la nostra abilità! Diciamo!